Il cimitero di Oliveto in Valdichiana e quello di Petrognano nel comune di Arezzo sono stati di nuovo presi d'assalto dai ladri. Alcuni malviventi hanno fatto irruzione nei camposanti e hanno portato via vasi, portalampade e statue, oggetti in rame che sempre più spesso attirano l'attenzione di bande di malviventi per il valore che il metallo ha acquisito sul mercato. L'ultima incursione ad Oliveto era stata nell'estate del 2014 quando furono danneggiate dieci lapidi. Adesso le nuove incursioni, manca la sorveglianza, lamentano i residenti, non ci sono telecamere, addirittura da tempo chiediamo che almeno il cancello venga messo un lucchetto quando cala la notte.